La matematica non è una priori. Oh, fratello mio caro, tu mi fatti passi conto, hai bisogno di un ragioniere, sei ignorante. Ma quando verrei a pagare? Ma è difficile dirlo a priori, perché non c'ho... Ehi, superi giù, insomma. E se lei non segue i miei consigli, alla fine pagherà il doppio, mi creda. Carissimi amici, bentornati all'appuntamento con il consulente a portata di mano. Oggi parleremo di bonus, parleremo di tutte quelle agevolazioni che sono state messe in campo dal governo per fronteggiare, per contrastare la crisi economica che attanaglia le imprese, ma anche le famiglie italiane. Ecco, tra i bonus più importanti c'è sicuramente il famoso bonus facciate, che fa parte di tutti quei famosi bonus edilizio per quanto riguarda il miglioramento, ma anche per la riqualificazione di tutte le abitazioni, delle case, ma anche degli edifici di natura condominiale. E tra l'altro la legge di bilancio di quest'anno, quindi la legge di bilancio del 2022, ha rinnovato questo importante incentivo, ma con una percentuale inferiore, perché lo scorso anno, fino al 2021, era del 90%, invece dal 2022 questa percentuale per quanto riguarda il bonus facciate, questa importante agevolazione è stata ridotta al 60%. Però c'è da dire che questo bonus facciate non è previsto un tetto massimo per quanto riguarda i costi che sono stati sostenuti, quindi questo comunque è una particolarità di questo importante bonus. Poi c'è un altro famoso bonus, ricorderete, il famoso bonus ristrutturazione, e anche questo è importante, riguarda le ristrutturazioni e rientro nei famosi bonus casa, che sono stati fortemente voluti anche da questo governo Draghi. Tra l'altro sono stati confermati, sono stati prorogati per quanto riguarda tutto il 2022, ma anche per quanto riguarda tutto il 2023, per quanto riguarda gli edifici condominali. Quindi l'agevolazione ha comunque delle percentuali inferiori, solitamente addirittura arriva al 75%, ma dipende dal tipo di lavoro, dal tipo di intervento edilizio che deve essere effettuato nella struttura. Poi sicuramente saprete che nella manovra finanziaria, che è stata appunto varata dal governo Draghi, c'è per quanto riguarda l'aspetto del bonus ristrutturazione, il famoso super bonus del 110%, che anche in questo caso è stato, come dicevamo, prorogato tutto il 2022, e per quanto riguarda gli edifici condominali a tutto il 2023. Però al contrario di quanto previsto inizialmente, non ci sono dei limiti ISE per quanto riguarda i lavori di ristrutturazione, che riguardano le villette di natura unifamiliare, però soltanto per i condomini, quindi è valida la proroga al 3-12-12-2023. Poi abbiamo il famoso sisma bonus, infatti chi acquista degli immobili che sono comunque situati nelle tre zone di rischio sismico, che sono appunto individuate nel nostro territorio nazionale, può soffrire di questo importante sisma bonus per quanto riguarda i lavori che prevedono un adeguamento della struttura. Questa misura rientra, tra quelle che hanno dato l'editto, a ricevere appunto la parte del 110%, tuttavia ci sono dei requisiti che sono stati individuati dall'Agenzia delle Entrate da rispettare per ottenere questa detrazione. Per prima cosa l'atto di acquisto delle immobili deve essere stipulato comunque entro il 30 giugno di quest'anno e poi il tetto di spesa per quanto riguarda gli interventi da effettuare per il sisma bonus è di 96.000 euro. Poi un altro bonus che è poco conosciuto è il famoso bonus idrico. In pratica si tratta di un contributo che arriva fino alla somma di 1.000 euro per quanto riguarda la ristrutturazione di bagni con particolare riferimento alla sostituzione di sanitari e quindi anche di rubinetteria. In realtà c'è una condizione per quanto riguarda per poter usufruire di questo bonus e cioè a patto che sia sostituzione di sanitari ma anche di rubinetti e che comporti chiaramente una riduzione della perdita di acqua. La domanda per quanto riguarda questo importante incentivo può essere presentata già a partire dallo scorso mese di gennaio di quest'anno sulla piattaforma online che è stata messa in campo dalla Sogei la società dell'Agenzia delle Entrate. Tra l'altro alla domanda bisogna sempre allegare tutti i documenti che sono comunque richiesti incluso l'Iban bancario quindi le coordinate bancarie su cui poi verrà effettivamente accreditato l'importo di questo contributo. Per quanto riguarda i bonus molto importanti c'è anche il famoso bonus mobili ma anche il bonus elettrodomestici e si tratta di una detrazione del 50% per quanto riguarda tutte le spese che sono state sostenute per l'acquisto di mobili che sono destinate ad abitazioni oggetto di lavori di ristrutturazione. Tra l'altro nella manovra di bilancio il tetto massimo di questa spesa è comunque sceso a 10.000 euro prima era 16.000 euro quindi l'incentivo è stato rinnovato quindi appunto con la legge di bilancio del 2022 seppur con alcune modifiche rispetto al passato. Come abbiamo detto assieme al bonus mobili c'è anche il bonus elettrodomestici infatti anche l'acquisto di grandi elettrodomestici per arredare una casa che è l'importante che sia un immobile oggetto di lavori di ristrutturazione consente di ottenere un'ageolazione per l'acquisto di elettrodomestici del 50% sempre con la soglia di 10.000 euro. Poi c'è un altro importante bonus anche questo purtroppo poco conosciuto è il famoso bonus ascensori che consiste praticamente in una detrazione del 75% per quanto riguarda le spese che sono sostenute per quanto riguarda la rimozione delle barriere architettoniche nelle abitazioni ma anche negli edifici di natura condominiale. Questo avviene tramite l'installazione di ascensori o comunque di montacarichi ma anche per quanto riguarda lo smaltimento dei vecchi impianti già esistenti. Tra l'altro in base al tipo di abitazione su cui vengono svolti questi lavori già la manovra del 2022 ha stabilito un tetto massimo di spesa e il credito di questa detrazione potrà essere utilizzato in 5 quote quindi in 5 annualità da portare in diminuzione dalle tasse quindi dall'IRPF quindi dal nostro modello 730 o dal nostro modello di dichiarazione il modello classico, modello unico. Poi per quest'anno c'è anche il famoso bonus caldaia che è stato confermato per il 2022 si tratta di una detrazione in questo caso per la sostituzione di impianti di riscaldamento della casa di un appartamento è uno degli ecomonos previsti a livello a carattere nazionale a livello nazionale e attualmente propone tutta una serie di agevolazioni del 110% se l'intervento riguarda la sostituzione di caldaia in contemporanea con un intervento trainante di risotturazione invece l'agevolazione è del 65% cambiando l'impianto con uno di classe A o comunque di maggiore efficienza invece la detrazione del 50% se viene sostituita oppure viene installata una caldaia di classe A senza valvole poi andando avanti c'è anche la conferma per il 2022 del famoso bonus condizionatori si tratta anche in questo caso di una detrazione prevista per chi acquista o comunque sostituisce un condizionatore nuovo a pompa di calore ottenendo comunque un efficientamento energetico nella propria abitazione in questo caso comunque è possibile ottenere una detrazione del 50% o addirittura in alcuni casi del 65% sulla spesa che viene affrontata e quindi che viene sostenuta questo credito comunque è utilizzabile in diminuzione delle tasse da pagare a seguito della presentazione come abbiamo visto già in alcuni casi del 7 a 30 della dichiarazione della reddita classica però in alternativa è possibile sempre fruire dello sconto immediato in fattura pagando in meno direttamente all'acquisto di questo condizionatore poi c'è un altro bonus molto importante in questo periodo di rincari di bollette di quant'altro per quanto riguarda il famoso bonus sociale infatti proprio per contrastare in questo periodo di ulteriori crisi o ulteriori rincari di bollette quindi per aiutare i nuclei familiari che abbiano un reddito ISE molto basso infatti si parla di un ISE inferiore a 8.265 euro o comunque inferiore con altri parametri a 20.000 euro però a condizione che ci sia la presenza di 4 persone o comunque di più figli e quindi c'è diritto a questo famoso bonus sociale anche per quanto riguarda il 2022 in pratica si tratta di uno sconto che viene applicato direttamente sulla bolletta della luce o del gas in realtà già dallo scorso 2021 non c'è più necessità di fare direttamente una domanda una istanza ma questo viene ottenuto questo bonus direttamente nella bolletta per la fornitura dell'energia elettrica o del gas poi ancora ci sono altri bonus per quanto riguarda i giovani sia per quanto riguarda il pagamento degli affitti ma anche per quanto riguarda l'acquisto di una prima casa per i ragazzi che hanno un'età inferiore a 36 anni per quanto riguarda il famoso bonus affitto dei giovani si tratta di un contributo per quanto riguarda il pagamento del canone di locazione quindi del canone di affitto che è stato introdotto anche questo con la legge finanziaria del 2022 questo oggettivo quindi spetta ai giovani che abbiano un'età compresa tra i 20 e i 31 anni l'importante è che non siano ancora compiuti i 31 anni che vanno comunque a vivere da soli quindi questo beneficio riguarda chi ha un appartamento in affitto quindi in locazione e lo utilizza come abitazione principale a condizione che sia diversa da quello dei genitori questa agevolazione è quindi pari al 20% della spesa anno sostenuto fino a un massimo di 2000 euro poi c'è un altro bonus anche questo purtroppo poco conosciuto è il famoso bonus verde in questo caso si tratta di un'agevolazione che è pari al 36% per quanto riguarda le spese sostenute per la sistemazione del verde del giardino di casa questa agevolazione è stata rinnovata perché già era presente nel 2021 e quindi sarà utilizzabile addirittura fino al 2024 in questo caso c'è comunque un limite di spesa di 5000 euro per tutti gli interventi realizzati per la sistemazione del verde di terrazze di giardini di balcone o comunque di fioriere in genere si accede a questa importante agevolazione in sede di dichiarazione del reddito quindi anche in questo caso attraverso la presentazione del 730 o del modello di dichiarazione del reddito dicevamo che c'è un'altra importante agevolazione per chi acquista una casa per i ragazzi che abbiano un'età inferiore a 36 anni in questo caso si parla di una agevolazione per i giovani che acquistano un'abitazione che si è adibita a prima casa entro il 30 giugno di quest'anno quindi questo è il termine ultimo che è stato fissato e ci sono due principali due essenziali benefici l'esenzione del pagamento dell'imposta di registro e l'imposta catastale nel momento in cui si fa l'atto dal notaio per l'acquisto di questa abitazione e poi il riconoscimento anche di un importante credito di imposta per un periodo pari per un importo pari all'IVA che viene versata per quanto riguarda le operazioni che prevedono il pagamento dell'IVA per l'acquisto della prima casa quando magari si acquista presso una società cooperativa o da un costruttore privato che sia titolare di partita IVA bene per oggi è tutto vi diamo l'appuntamento alla prossima puntata grazie a presto la matematica non è una priori fratello mio caro tu mi hai fatto passi conti hai bisogno di un ragioniere sei ignorante ma quando verrei a pagare? beh è difficile dirlo a priori perché non c'ho ehi su pari giù come minimo massimo del minimo ecco come minimo del massimo e se lei non segue i miei consigli alla fine pagherà il doppio mi creda